Compassione e tenare, ma compassione, bisogna capire se è attaccato, compassione come compassionevole, sotto certe ripetizioni, questa cosa di tetragono, perché le sta tanto stretta sta cosa, meglio che sentirsi dire parlare a vanvera. No, adesso parlo io un secondo, mi autorizza, magari mi autorizza il Presidente, lei sa cos'è la vanvera? La vanvera, le signore del Settecento che avevano le gonne larghe, per non fare rumore, si mettevano una vescica di animale dietro quando dovevano fare dei rumori, la vescica, e questo vuol dire parlare a vanvera, questo vuol dire parlare a vanvera. Tetragono non è una parolaccia, tetragono vuol dire che si rimane, sa quella barzelletta dove si dice avanti, allora qui c'è un discorso contrattuale, qui non c'è da rimproverare niente alla Giunta e al Consiglio, non c'è nessuno che non ha mantenuto le promesse, se poi non le sta bene, io ho detto tetragono, vuol dire continua, adesso parlo io un secondo, scusi, lei è sempre democratico per se stesso quando gli altri devono parlare, non si parla, e allora si parla a vanvera, e le ho spiegato che non è una bella cosa. Allora, cerchiamo di vedere questa delibera, c'è un contratto. Grazie.